buongiorno la natura si sveglia buongiorno la natura si sveglia come la mia paura oddio ecco ma tu c'eri mamma mia grazie si la consegna speciale ma che ti sei messo con il cappello si che ti fai a mettere a fare la gelatina non lo so ok domenica mattina Lillo è al lavoro ciò la fanno Lillo è al lavoro perchè devono fare un lavoro urgente vabbè ha lavorato pure ieri noi ieri siamo stati tutto il giorno da soli siamo andati a un parco poi l'ho portato al MAC insomma siamo rientrati tipo alle 3 e mezza poi siamo stati fino ai 10 da soli dattina calmata e oggi però vado da mamma quindi mandiamo da lei gli porto il super melograno non che manda tua vicina di casa io lo mando tutto io va bene si preparo Fibbi e scendo tu sei pronto? si ok andiamo ciao 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 c'è il mac c'è il mac carino vero? guarda ho portato sempre il piccolo è solo che per me la sorprezza non la trovo più che li ricordi i buazzetti che li ho trovati a giornalario questo e poi questo ah pure questo è bello quello che stava qua che me lo sono portato a casa no non sta diluviando che credo diluvia gente sta bagnandomi tutto cioè ma poi piova vento il pompiere adesso arriva il pompiere è uno di noi mercoledì quando vuoi ma no sta facendo la cacca e sta cantando posso venire io? vuoi nonna? vuoi nonna ma? nonna! e leonora? è quello un canavaccio amore ci dobbiamo asciugare la roba non è che si può mettere oggi sto asciugando il mio negozio di torte questo ha asciugato tutto lui questa roba qua sopra è bravo è bravo ma io sto sto chiudendo il mio negozio di torte ma io qui però la torta non l'ho mangiata com'è? hai finito di aiuta nonna amore? avete finito? quasi non lo so quando finiamo si ma io vorrei andare a casa perché se ricomincia a piovere amore ma c'ha ragione mamma è capito mamma? va bene ti aspetto tranquilli se mi andiamo a piovere tanto ho finito devo solo piegare il testo sulla mano e ho fatto e ha finito dai io adesso vengo io adesso vengo così non mi stai più a chiamare così non mi stai più a chiamare io obbedisco ti obbedisco sono un bravo bambino sono un bravo bambino però ora arriva la parte di qui domani nonna ti paga eh? che hai lavorato tanto va bene? ti dammi i suoi soldi ma e dov'è questa asciugamante? ecco l'ho ripreso io per asciugare questa pentola e beh me lo ripieghi me lo ripieghi dai ripiegalo dai dai scusa ti avevo messo uno a trent'anni lo so c'hai ragione nonna tantissimo tempo per ripiegarlo scusa non lo faccio più grazie ora devo rifare un'altra cosa così mamma mi deve per un'altra volta di chiamare o avevo fatto o avevo fatto e lo so che avevi fatto avevo fatto tutto stavo chiudendo il mio negozio lo so amore però vabbè comunque poi nonna domani ti paga eh? vero va bene? amore anzi farò la mia testa no adesso non ce l'ho i soldi domani devo andare in banca amore le cose si fanno anche per la voglia di fare eh? non soltanto per guadagnare capito? si si ditelo ma lo so mamma capito stai con te ce l'ho capito nonna mi deve essere così ok? va bene amore ciao dammi il cinque ammazza il cinque questa è una cinquina azzera la poche nonna nonna guarda scrivitero scrivitero che non tocco niente scrivi guarda scrivi in piccolo e di e scrivi che scrivo amore? scrivi Stefano ha detto di non toccare e di lasciare tutto come era va bene grazie ore sette mi sono lavata i capelli adesso me li asciugo me li sento proprio raga in un cioè una cosa io me li so aspettate mi levo da qua eccomi considerate che adesso me li sento un po' più pieni perchè sono bagnati e ho cambiato shampoo sto usando il panten anti caduta perchè prima usavo le rive Stefano non mette le mani sugli asciugamani togliti e quindi sto usando questo qui anti caduta devo dire la verità me ne sono caduti molti meno non tanto in fase di lavaggio ma in fase cioè giornaliera nei giorni seguenti me ne sono caduti di meno però sto soffrendo vi dico la verità sto soffrendo tantissimo perchè io ci ho avuto sempre il cruccio dei capelli che non mi crescevano guardate dei capelli che non mi crescevano e ce l'avevo davvero meravigliosi poi l'avete visto e quindi per me era proprio quasi un vanto no? avessi i capelli perchè era l'unica cosa veramente bella del mio corpo cioè di me stessa che mi piaceva di cui potevo farmene cioè un punto di forza ecco quindi sentirmeli diradati sentirmeli sentirmi tipo io la chiamo la testolina da gallinella secca no? cioè mi da mi da poco fastidio comunque io sto prendendo ho dimenticato di dirvelo l'altra volta sto prendendo il bioscaline cioè sto prendendo l'ho comprato da poco ecco non l'ho preso prima perchè costicchia 20 euro e quindi siccome ci avevo avuto una spesa grande di fibi ho preferito comprare prima le medicine a fibi perchè due medicine minuscole così l'ho pagate 50 euro poi vabbè ci ho avuto la cura del ferro oppure quella sono state una bella botta perchè sono state pure quelle 50 euro 50 euro a botta ecco e quindi vabbè insomma ci ho avuto un po' delle spesucce quelle che ci hanno tutti la prima nell'ultima e quindi diciamo che per questo problema ho ovviato un po' però adesso l'ho ricomprato e ricomincio ce ne stanno tanti di prodotti per capelli io lo so però io mi trovo tanto bene con il bioscaline e e ricomincio con quello tra l'altro li ho anche ritagliati considerate che io li taglio ogni 15-20 giorni l'estate ogni 30-35-40 l'inverno però vabbè è periodo lo so però considerate che ho avuto un periodo un po' stress un po' stressante tra l'altro ancora non mi sento proprio al top per quanto riguarda lo stress e scusate se continuo a toccarmi i capelli so che a tanti può da fastidio ma primo mi continuo a levare quelli che stanno appesi e secondo non mi ritengo sul collo bagnati e poi considerate che l'alimentazione influisce tantissimo io vuoi il mio momento un po' così mi sto sfondando di carboidrati ho proprio abolito le proteine e io ricordo di aver avuto un miglioramento molto molto significativo con i capelli quando ho iniziato a mangiare tante proteine ma per voglia quindi mangiavo tanta carne nei limiti eh tanto pesce cioè comunque mangiavo le uova invece adesso mi sono buttata su pane pasta che sono quelle cose che a livello proprio di serenità mentale ma pagano e quindi cerco rifugio nel carboidrato sbagliato lo so però è un periodo così che pure io ho sta cosa e quindi vabbè diciamo che l'alimentazione è il primo punto non c'è nulla da fare in questo adesso mi asciugo i capelli ah l'ultima cosa riguardo i capelli poi chiudo io mi devo riscurire perché quando io mi lavo i capelli e faccio tipo così eh lo shampoo sembra come se venisse risucchiato dai capelli che ormai sono biondi so comunque vengono da dopo l'estate quindi è un capello un po' sfibrato quindi io di questo periodo se vi ricordate di solito già sono più scura ma non l'ho fatto proprio perché il capello non è sano e non mi va di andare a metterci altri intrugli sopra quindi appena il mio capello riprende un attimino sicuramente vado di nuovo dal parrucchiere e mi scurisco in modo da dare un po' de pace ecco i capelli dove staresti andando tu? a prendere un pompiere ah sei un pompiere sono un pompiere ah ecco e il casco? non ti mette? no no perché mo me lo metto quando c'è l'interno ah vieni mamma vieni mamma ti devo fare vedere una cosa mamma vieni a pari dietro vedi lì quella che questa non è mia non è la mia guarda che ce l'hai buttata tu sicuro no te lo giuro non è la mia vabbè dai esci dal bagno sai che non voglio che giochi nel bagno Cioè lì l'ho dovuto riuscire un attimo Ma ve l'ho detto già Andai all'ufficio Spendi la luce al corridoio Penny Adesso mi metto a fare la cena Stasera volevo fare Le costolette Si dice costolette Io ho spazzatura ovunque Di maiale Questo volevo fare Aspettate Oh le costolette Credo che già abbia la salsa Barbecue Barbecue sto scherzando Morbide e succulente Le costine di maiale in salsa barbecue Di casa Modena Portano in tavola tutto il gusto Ed il piacere della griglia Regalando un aroma inconfondibile Che stupisce al primo assaggio Il segreto di questa ricetta È l'esclusiva preparazione della carne Massaggiata e marinata Per ben 24 ore Buono come se l'avessi fatto tu Ma mi viene da ridere perché Ho fatto un po' sta sorta di televendita E mi viene da sorride perché Spesso no? Avete visto quando magari mi capita Di fare tra virgolette Qualche sponsorizzazione Tante mi dicono Loro lo dicono con cattiveria Però a me mi fa piacere Sembra una televendita Cacchio! Cioè io sono contenta Perché dovete sapere Che il mio sogno da bambina È sempre stato quello De fare tipo le televendite Cioè io tipo Che ne so Mi infognavo A guardare le televendite Cioè avete presente Quelle tipo dei gioielli? Cioè io da piccola Tiravo fuori tutti I miei amici Un frusaglia di bigiotteria E facevo finta De fare la televendita Dei gioielli Quindi tipo Prendevo l'anello Come fanno loro Oppure prendevo la pinzetta Per far vedere tipo Cioè tipo che ne so No? Avete visto quando fanno Vedere tipo gli orecchini No? Allora loro Prendono tipo Con la pinzetta così E facevano Vediamo questo anello Meraviglioso 24 carati Guardate donne Guardate la lucentezza Ecco tipo questo Facevo questo Poi facevo tipo La Sì che ne so La televendita Non lo so Delle pentole Cioè a me mi piaceva proprio Lo facevo per gioco Quindi quando Mi capita che devo fare Pubblicità O comunque ecco Qua su youtube Tanti mi dicono Sembra una televendita Quello che dici Te l'hanno scritto No? In realtà sono tutte parole mie Ve lo giuro su Dio Perché a me mi piace proprio Cioè io c'ho proprio Non lo so Mi è sempre piaciuto E quindi evidentemente È una dote naturale Non lo so Quindi io l'ho vissuta Come un complimento Cioè non mi sono offesa Mi veniva da ridere No? Come se l'avessi fatta apposta Invece no Cioè so proprio io Che so fatta così Vabbè A parte questo Adesso apro il forno E mi metto a fare tutto Sto cianfusaio De roba Però la salsa Dove sta? Dentro Sta già dentro Con tutta la salsa E certo Come fai? Vabbè Vado Le metto al forno E vediamo come vengono Cioè dice Mettetela con tutta la salsa Questo è lo sputazzo di salsa Che è rimasto Vabbè Sicuramente Starà impregnata sola Comunque Questa È da infornare Cacchio Ma che è sto riporto Che c'ho sempre Vabbè Comunque Devo apparecchiare Vado Che bello Che bello Il peccino Ti piace? Sì Ti piace? Devo mangiarlo E ora lo mangiamo Sì No Mh Ho metto questa Per fare finta Con la pecora Dopo Per fare finta Che è pesante Guarda Cioè la tartaruga Sarebbe una pecora Fammi capire Non ho capito Sì per finta Ah ok Perché non ho una tartaruga Perché non ho una pecora Perché non ho una pecora Guardo cattolo Vedi che non si chiude bene Perché c'è questa qua Ah ah Ok E la trascini E la trascini Bello Quella sarebbe la pecora Allora Sì sarebbe la pecora Ho capito Ma stai salvandola? Eh? La stai salvando? Sì È arrivata in mezzo al fuoco Mmm Ah in mezzo al fuoco? Sì Oh sorella Salvala Salvola Salvola Ha belle chiappe Grazie Naturalmente avete visto La valigia lì De Stefano Perché tra qualche giorno Bombolone Dorme da mia madre Voi direte Ma come la trattate Di sperare E mi sei contenta? Sì perché Lo dico perché Nadia già l'ha detto Tra qualche giorno Viene a Roma E quindi Siccome vogliamo uscire La sera Lui dorme da mamma Perché Non è tanto il fatto Di uscire la sera Ma Stefano Piano Dobbiamo andare in un posto Dove lui non può entrare E quindi E quindi Lo lascio da mamma Lui è felicissimo Perché non posso entrare? Tu in tanti posti Non puoi entrare Sei piccolo E insomma Vabbè dorme da mia madre Capito? Quindi lui è tutto felice Vero amore? Che dormi dai nonni Da mia madre Da mia madre Da tua nonna Non sei contento? Perché io devo uscire la sera Con il papà Dove ti metto a te? Dove devo andare? Prima vieni a prenderti il biotico Sì Apri la bocca Brava Missione compiuta Lo vuoi? Dove sta lo snack dei bibini? Aha Come ti devi mettere? Seduta Bravissima Terra 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 Sì però non Dove sta zitto? Terra 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 Giù Giù Stai che si mette paura il cane Ecco perché non si è spostata Ah vi volevo far vedere una cosa che ho comprato L'altro giorno Aspettate eh Allora L'ho presi per provarli Però mi piacciono da morire Sono questi qua Semi di girasoli E segale integrale Norvegesi della Daily Bread Questa qua E Vedete dentro come sono fatti? Sono praticamente tipo Tutti i semi pressati C'erano anche Quelli soltanto alla segale Che non ho preso perché la segale sembra un po' segatura O se no c'erano quelli tipo ai fiori di zucca Una cosa del genere Comunque vabbè Sono Sono buonissimi Cioè qualcosa di Spettacolare Cioè veramente io non me lo credevo che erano così buoni E non mi rimangono neanche tanto pesanti Perché di solito tutti i semi Poi quando li fanno tipo così a galletta Rimangono un po' pesanti Invece devo dire la verità no Ho mangiati al posto del pane Con l'insalata Sono buonissimi Quindi vabbè Ve li volevo menzionare In modo che se li trovate Schiappateli perché Good Le ho abbassate un po' Perché lì dice forno ventilato E questo non credo sia ventilato Capirà questo ha dormito due ore Che mi stavi dicendo Stari? Dimmelo un po' Mi preoccupo troppo Quando papà è stato con la moto Con il buio Davvero? Sì Ma ma stai attento sai Non ti preoccupare Era quella cittata al collo Ancora non è arrivato Ma non detto che Ma io sono pare un vecchio Dei 90 anni 8 e mezza Eh non te la mettere al collo Stai perché se ti soffochi Come ti libero? Non te la mettere al collo E niente Finisco di svuotare la lavastoviglie E poi Se arriva mangiamo Insalata la vuoi vicino O te la mangi dopo? La mangi Ok Stefano Dai buonanotte Aiuto Dalla buonanotte 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 Pippi Dalla buonanotte 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 Grazie a tutti.